eccoci imprenditore vero buongiorno e ben tornato ben trovato siamo di nuovo qui siamo aggiornati tecnologicamente no? abbiamo fatto qualche modifica di migliorarci pian piano ci miglioriamo sempre di più ci siamo fatti anche qualche giorno di mare che male non fa io purtroppo ho dei casini mi hanno bloccato totalmente vabbè lasciamo stare va bene va bene però come detto appunto siamo mancati qualche giorno qualche weekend e ripartiamo col botto come vi abbiamo promesso infatti riapriamo questa nostra nuova stagione la stagione numero 2 di imprenditore vero e la facciamo alzando ancora un pochino il livello e dandovi qualcosa di particolare l'ospite di oggi la vogliamo già introdurre? l'ospite di oggi è Daniela Bonetti lascerò a lei il piacere di presentarsi io la conosco per svariati motivi uno che magari qualcuno di voi condividerà con me è quello di aver letto questo libro Team Leader buongiorno buongiorno ciao Daniela ciao grazie dell'invito ciao Giuseppe ciao Leo allora grazie intanto per questa opportunità mi fa molto piacere grazie a te grazie a te perché sei proprio l'ospite diciamo di eccezione per inaugurare la nostra giornata troppo buoni troppo buoni allora devo ti faccio la domanda di rito chi sai e di cosa ti occupi va bene allora mi occupo di crescita personale di formazione ormai da 17 anni sono la direttrice nazionale della Roberto Re Leadership School quindi noi abbiamo per chi non ci conosce ora Roberto Re in linea di massima è difficile non conoscervi chi un minimo fa formazione crescita personale o insomma si interessa di leadership sicuramente lo conosce collaboro con lui da 17 anni abbiamo costruito insieme tutte le nostre scuole che sono capillare in giro per l'Italia io ho fatto diciamo una buona esperienza nella gestione nella crescita dei collaboratori che oggi maggiormente gestiscono principalmente le varie sedi e ho scritto quattro anni fa ho scritto leadership al femminile con una mia collega Francesca Romano quindi a quattro mani e poi l'anno scorso è uscito team leader proprio per mettere insieme contenuti suggerimenti esperienza insomma della gestione del team che è una delle cose che potranno dircelo gli imprenditori veri che ci seguono che è una di quelle cose più impegnative e più difficili da fare è proprio perché è una delle cose più difficili da fare leggendo il libro mi sono accorto che ci sono dei tuoi suggerimenti che lì per lì pensi vabbè ma è ovvio fare così in realtà quando poi ti ritrovi o a essere un team leader o a dover convivere con il tuo team leader ti accorgi che tante di queste cose in realtà non le trovi o non le fai o non le trovi in chi dovrebbe un pochettino guidare allora ti volevo chiedere quali sono secondo te i tre errori comuni che trovi nei leader che tu vai a formare allora vado a braccio uno sicuramente il dar per scontato che il collaboratore abbia totalmente compreso il ruolo che deve ricoprire nell'organizzazione o i compiti che deve seguire perché tu sei convinto di aver magari comunicato in maniera adatta e quindi dai la responsabilità al collaboratore perché magari non ha fatto quello che doveva fare oppure non sta nel suo un'altra cosa sicuramente è il dare feedback quando si dà feedback la maggior parte delle volte il team leader tende ad usare una modalità che critica cioè sfocia nella critica il collaboratore si sente giudicato mentre il feedback dovrebbe essere quella darti la dritta il suggerimento farti notare le loro che hai fatto e dirti come fare per riparare in modo distaccato e qui ti dico nei chiedi tre ti dico la terza il prendersela sul personale quindi il team leader prende sul personale quindi gestisce male le sue emozioni nei confronti del collaboratore e quindi cosa fa magari insomma ha una modalità aggressiva tende a fare il capo tende appunto di conseguenza poi a comunicare in modo giudicante giudichevole il proprio collaboratore ecco queste sono tra tra quelle che mi vengono in mente macro errori quelle che togliere più spesso sì 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 perché ripeto il problema più grande è proprio il team leader alla base deve essere in grado di creare una vera e propria relazione con il suo collaboratore e spesso il team leader tratta il proprio collaboratore come colui che deve fare eseguire dei compiti non come una persona non come qualcuno che farà la differenza nella sua azienda ma come qualcuno deve eseguire dei compiti deve essere pagato per quello e quindi diventa difficile ovviamente o soprattutto far durare queste persone questi collaboratori non durano a lungo in queste organizzazioni certo e quando un collaboratore va via difficilmente va via per il lavoro che svolge cioè anche ma la maggior parte dei casi diciamo se vogliamo mettere in percentuale maggiore la percentuale di persone che se ne vanno dall'organizzazione a causa del suo team leader piuttosto che a causa dell'azienda o del ruolo che ricopre all'interno quindi magari magari il collaboratore è anche bravo è preparato però si ritrova ad essere gestito male da un team leader che può essere e il proprietario dell'azienda il CEO o magari semplicemente un caporeparto che non sa far bene un manager di un'azienda un manager esatto di quell'azienda e magari è per quello che va via quindi più che un team leader quello lì è un capo un capetto è un allora a volte sai c'è questo piccolo problema soprattutto nelle grandi aziende che il manager a volte vengono messi dei manager di riferimento che devono essere a capo di un gruppo ma che non sono dal gruppo riconosciuti come leader perché non hanno l'attitudine del leader non hanno leadership nei confronti della squadra e quindi non essendo capaci a gestire il team sono stati messi là perché boh magari hanno le competenze tecniche ma non sono bravi a fare quel lavoro ma non a gestire un team è un'altra cosa cioè gestire un team è un altro lavoro all'interno del nostro lavoro cioè voi siete imprenditori fate gli imprenditori dovete gestire bene nel vostro business e dovete essere competenti nel vostro business ma se volete creare un'organizzazione grande dovete imparare ad essere un team leader perché altrimenti rimarrete imprenditori soli cioè visto che dall'altra parte penso ci siano incuriositi e interessati degli imprenditori quindi se un imprenditore non sarà solo è una scelta fa l'imprenditore di se stesso e gestisce tutto da solo arriva fino a un certo punto è ovvio nel momento in cui vuoi creare un'organizzazione allora devi imparare a fare altre cose che sono quelle di duplicarti di essere in grado di trovare tra virgolette degli altri te stesso che sposano la tua azienda quanto te e questa non è una cosa così semplice hai detto una cosa davvero interessante è che ultimamente mi chiede spesso qualche amico magari mi fa la domanda ovvero che sposino un'azienda quanto te mi capita però di sentir dire mi piacerebbe che i miei collaboratori lavorassero come se l'azienda fosse la propria ma è corretto questo ragionamento oppure di base c'è qualcosa che stona no allora di base è giusto questo ragionamento perché immagina tu sei l'imprenditore della tua azienda sei ci con la persona che lavorano con la stessa passione la stesso interesse di far andare bene la tua azienda proprio come se fosse anche la loro riesce a creare un certo clima un ambiente siamo tutti nella stessa direzione se c'è un problema sono tutti comprendono tutti quello che sta succedendo e questo è bellissimo dal punto di vista in un mondo ideale bravo bravo la responsabilità di tutto questo cioè per per riuscire a catturare il livello di attenzione il livello di passione dei tuoi collaboratori come ce l'hai tu per la tua azienda è tuo cioè è dell'imprenditore è del team leader quindi se io ho una mission ovvero ho un motivo più grande nella mia azienda facciamo un esempio nostro mio ok noi il nostro lavoro è aiutare le persone ad aumentare la qualità di vita ad essere più leader ad essere più liberi dalle catene dei limiti personali a fare più soldi perché ovviamente puoi generare più soldi quindi aiutiamo le persone a star meglio ok questa è una forte missione che noi abbiamo cioè tutti quelli che passano attraverso i nostri programmi i nostri percorsi il nostro obiettivo non è vendere il corso è far ottenere risultati che è un'altra cosa quindi se io ai miei collaboratori trasferisco questo e faccio capire che la nostra è una missione cioè la nostra è un 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 aiutare il mondo ad essere migliore e sposano questa idea perché io riesco a trasferirgliela perché sono coerente avrò delle persone che se sono interessate solo ai soldi a vendere corsi non riusciranno a a star dentro un team se invece sono interessati sì ai soldi ma perché di conseguenza li faranno perché sono focalizzati sull'aiutare le persone ad essere delle persone migliori ci sei? assolutamente condividibilissima questa visione d'altronde mi sia così cioè l'aspetto etico insomma di e di coerenza nella nel modo in cui si comunica perché poi alla fine si tratta di comunicazione no? sì deve essere il team leader viene da molti recepito come comunicazione sinonimo di pubblicità no? qualcosa che è esterna alla realtà invece alla realtà personale aziendale quando in realtà è la cosa forse più importante per un leader sapere comunicare assolutamente è è è una cosa importante ed è anche una questione di coerenza cioè io devo essere coerente con la mia con con quello che io credo nel mio lavoro allora avrò grande facilità a trasferirlo se ci credo poco io o se fa o se io stessa lo faccio solo per i soldi solo per il denaro solo per il successo è difficile che riesco a coinvolgere eh con questo atteggiamento i miei collaboratori perché non sono non sono non sono la cosa più importante è la sincerità perché la sincerità credo che si che traspaia prima di ogni cosa nel modo di comportarsi e di comunicare non si può fingere infatti io mi ricollego diciamo a quello che è il mio settore cioè il branding il personal branding perché ed è anche la domanda un po' che io vorrei farti che è quella che rapporto c'è tra essere leader e fare personal branding Beh, allora sicuramente personal branding ti permette di essere di lavorare sul tuo brand personale di essere riconosciuto come quel personaggio quel ruolo identificato diciamo così è chiaro che la leadership ci rientra per forza perché la leadership vuol dire anche qua se tu vuoi essere riconosciuto devi incarnare in termini di leader di guida personale quello che vuoi trasferire al mercato cioè devi essere quello cioè deve esserci il tuo brand deve essere nella tua identità se no è un falso è un fake perché tu noi cerchiamo sempre come sai Daniela oggi si parla tantissimo di influencer parolone di cui molti hanno timore perché associano la parola influencer magari ai classici ragazzi che si fanno i selfie o magari fanno contenuti futili in realtà siamo tutti influencer chi più chi meno no? e sapere influenzare da parte di un leader presuppone quindi da parte di fa personal branding presuppone essere assolutamente leader perché non si può influenzare gli altri se non si è convinti di quello che è la propria i propri valori conoscere se stessi e comunicarli ma non si può comunicare qualcosa che non si conosce e prima di tutto devi dimostrare di saper influenzare te stesso perché se tu vuoi influenzare gli altri ad una vita migliore qualunque cosa sia e poi tu hai 200.000 problemi non sei in grado di risolverti che influencer sei no? poi si capisce proprio ieri sera vedevo un un film della credo che sia sempre della Disney che è la storia del signor Banks protagonista di Mary Poppins dove c'è questa simpatica questo teatrino tra il signor Walt Disney e la signora adesso non ricordo come si chiama ma che è l'autrice del libro e lei entrando nell'ufficio di Walt Disney che era già famoso straricco lo trova con la segretta in mano e lui si vergogna e dice mi dispiace che tu mi abbia visto fumare perché è un messaggio che assolutamente non voglio che passi non mi piace dare messaggi negativi né ai bambini né almeno ai genitori questo è comunque un buon esempio di leadership penso comunque anche se si sta facendo comunque una cosa sbagliata ma ci teneva a far sì che fosse fosse molto nascosta una cosa che ho notato negli anni che io sono una persona molto curiosa e molto attenta ai particolari specialmente quando ho qualcuno che riconosco essere decisamente più bravo di me ho visto e non capita solo a me che molti molte persone molti leader sono molto bravi molto carismatici molto preparati però hanno quella paura a darti quella cosina in più a te collaboratore probabilmente per paura che tu magari possa domani andare via con una tenda più grande oppure addirittura tu possa diventare un concorrente secondo te è una cosa positiva o c'è un consiglio che possiamo dare per far sì che si possano dare insomma dare più possibile ai collaboratori per farli crescere senza questo timore ok allora il fatto che un collaboratore possa da un momento all'altro andarsene aprire di fronte c'è sempre cioè non è una cosa che uno può controllare ok la cosa importante che io suggerisco è quella di non avere un atteggiamento di paura nei confronti della perdita dei propri collaboratori se hai dei collaboratori bravi bene perché se hai dei collaboratori bravi e dai importanza a queste persone fai ricoprire dei ruoli importanti dai delle responsabilità gli dai spazio deleghi e li fai crescere magari in termini di carriera in termini di posizione di posizionamento all'interno dell'organizzazione è molto difficile che se ne vadano perché se stanno bene sono ben riconosciuti sia dal punto di vista morale che dal punto di vista economico perché dovrebbero andarsene se io invece tiro le redini tengo profili bassi perché non voglio che le persone crescano troppo altrimenti potrebbero prendere il posto mio oppure aprire l'organizzazione uguale alla mia di fianco è facile che questo accada perché? perché nel tenere le redini non dai spazio a queste persone queste persone sono di profilo alto sono persone che vogliono esprimersi e se non possono esprimersi da te vanno a esprimersi da qualcun altro è molto semplice se posso aggiungere una cosa un mio pensiero su questa cosa il discorso di dare quel qualcosa in più essere un po' tirchi no? di informazioni io credo che sia un qualcosa di molto stupido in realtà non dare quel qualcosa in più perché in realtà oggi la differenza non la fa l'informazione in realtà l'informazione noi la conosciamo cioè basta andare su YouTube andare su Google trovi qualsiasi informazione la vera differenza la fa l'esperienza la competenza e sono cose che si acquisiscono col tempo con tanto impegno quindi questa questa essere tirchi nel dare consigli lo trovo veramente tra l'altro anche un po' stupido un po' così allora è una mentalità basata sul risparmio e non sull'abbondanza se vuoi abbondanza devi dare in abbondanza se vuoi meno dai meno certo c'è anche l'altro lato della medaglia però giustamente cioè forse ti vuoi rifare anche a questo cioè nel senso che se uno dà troppo finisce poi che abitua il proprio pubblico a abitua male tra virgolette e poi significa anche non riuscire anche a concretizzare no? può anche può essere anche probabilmente è giusto anche trovare un equilibrio tra le cose dipende dipende nel senso che non a tutti si dà la stessa dose di formazione di informazione di competenza dipende chi è dall'altra parte cioè è molto è molto soggettivo è inutile formare una parte poi chiaro dipende da caso a caso però in generale possiamo dire che l'informazione è ampiamente disponibile effettivamente quello che conta è l'esperienza insomma anzi si vorrei chiedere visto che comunque tu lavori in una realtà che fa anche del del contatto umano degli eventi diciamo il centro anche uno dei delle cose degli aspetti più importanti dell'attività come si è voluto in questi anni nella vostra scuola come è cambiato scusa in questi mesi nella vostra scuola il rapporto con i vostri collaboratori clienti eccetera considerando insomma il il problema coronavirus che insomma purtroppo ha bloccato tutto quello che è il mondo degli eventi allora intanto faccio una premessa credo che sia importante da parte di un imprenditore e da parte di un'organizzazione avere la velocità mentale di trovare soluzioni e non focalizzarsi sui problemi perché purtroppo in questo periodo tante delle aziende sono rimaste inchiodate dove erano semplicemente perché invece di vedere quali sono e quali potevano essere le varie soluzioni si sono concentrate esclusivamente sul problema e hanno magari aspettato che qualcosa cambiasse nel tempo la cosa che noi abbiamo fatto immediatamente è fare una riunione e decidere subito come muoverci perché abbiamo capito che questa non sarebbe stata una cosa così temporanea per cui diciamo abbiamo un pizzico guardato avanti e quindi abbiamo subito messo in condizione i nostri clienti e continuare a seguire i nostri corsi attraverso ovviamente quello che poi hanno fatto un po' tutti attraverso i webinar attraverso l'online e il nostro percorso fly che è il nostro percorso di punta che permette alle persone appunto di seguire prima tutte le settimane dal vivo le serate abbiamo iniziato a fare tutte le settimane organizzando le migliaia di persone che abbiamo ovviamente come iscritti a livello nazionale in un unico in un unico l'unico sistema del webinar ed è ha avuto un grande riscontro perché le persone erano contente di continuare a crescere di essere comunque di essere comunque seguite e strada facendo abbiamo cambiato il nostro metodo di vendita ovvero prima noi facevamo gli incontri tutta la mia organizzazione faceva gli incontri dal vivo faceva gli appuntamenti di coaching dal vivo per capire di cosa aveva bisogno una persona e poi decidere per l'iscrizione al percorso oggi facciamo tutto ovviamente online e quindi c'è un'ottimizzazione dei tempi un'ottimizzazione economico per il discorso della logistica e abbiamo un po' trasformato il nostro percorso che avrà una parte sempre continueremo a lavorare via webinar oltre che le serate settimanali che anziché essere 4 al mese saranno 2 a partire dal mese di settembre purtroppo avendo le sale abbastanza contenute in questo caso nei vari centri staremo alle regole del covid e quindi la distanziamento sociale la mascherina eccetera però almeno daremo la formazione anche dal vivo invece purtroppo i grossi eventi come l'emotional fitness che è uno dei nostri più importanti eventi sulla gestione delle emozioni che è ovviamente all'interno di questo percorso noi abbiamo la data prima della fine dell'anno però sono sincera io non credo che si potrà fare per cui stiamo continuando a lavorare abbiamo anche inventato inventato per modo di dire abbiamo strutturato dei percorsi per gli imprenditori sempre sulla crescita personale tutti tutti i programmi acquistabili online per continuare a dare supporto alle persone tra l'altro in questo momento ce n'è non bisogno di più perché la gente generalizzo è terrorizzata è terrorizzata hanno tutti paura io vedo persone in giro per la strada da sole con nessuno intorno con la mascherina quindi c'è proprio il terrore di questa cosa per cui quando basiamo tutto sulla paura diventa difficile agire in modo positivo in modo propositivo e ripeto il fatto che noi facciamo quello che facciamo abbiamo messo in campo l'atteggiamento per reagire per reagire per inventare per continuare a fare il nostro lavoro è ridimensionato si fattura meno cioè non è non è una cosa che si nasconde è normale a tutte le aziende immagino tranne forse quelle che si sono inventati di fare le mascherine fatturano di più è vero però però è così quindi è tutto molto più impegnativo però ripeto veramente la squadra ha reagito benissimo ma ha reagito benissimo perché noi dall'alto abbiamo a cascata guidato guidato con fiducia e dando comunque una visione rassicurando perché in quel momento lì tutte le organizzazioni avevano bisogno di rassicurazione se il leader non è sicuro di cosa sta succedendo non sa dove andare tutta tutta la sua tutta la sua organizzazione crolla avete fatto benissimo perché è vero che nonostante con quegli sforzi di riorganizzarsi trovare delle soluzioni è normale che nonostante ci siano stati questi sforzi il ritorno comunque non può essere paragonabile a quello che c'era prima però è anche un investimento a lungo termine a livello di comunicazione a livello di proprio di divulgazione della propria indole della propria comunicazione proprio della propria reputazione perché comunque si comunica positività un giorno quando tutto rientrerà nella norma comunque molte persone si ricorderanno dello spirito positivo propositivo che comunque quel consulente quel coach quell'azienda di formazione come nel vostro caso ha dimostrato esatto ed è anche tra l'altro quello che noi abbiamo fatto io e Giuseppe perché noi abbiamo iniziato a marzo quando c'è stato il lockdown ho detto facciamo questa cosa anche per sollevare un po' il morale nel nostro piccolo ci proviamo a me imprenditori tutto fa in questo momento tutto fa tutto può essere può essere d'aiuto perché le persone in questo momento hanno veramente hanno difficoltà a vedere il futuro aziende chiudono stanno chiudendo quindi persone rimangono senza lavoro qua bisogna trasferire positività che non è della serie oh andrà tutto bene hashtag andrà tutto bene con una cavolata madornale ma è siamo realistici oh troviamo piano B, C, D, E, F, G cioè della serie mi devo organizzare perché mi devo reinventare e quindi devo avere l'atteggiamento giusto devo avere l'andrà tutto bene è una la classica bugia fin di bene no? l'andrà tutto bene è la classica bugia fin di bene una bugia fin di male perché è un'illusione perché è un'illusione cioè andrà tutto bene posso dire una parola la stronzata più grande l'hashtag più più stupido che io ma andrà tutto bene andrà tutto bene cosa? andrà tutto bene per tutti quelli che la faranno andare bene ma c'è ma beh ma comunque è sottinteso questo no? non è che possa essere sottinteso questo messaggio non è sottinteso pensi che sia un messaggio detto così soltanto per dire vabbè tanto ci sarà qualcuno che ci aiuterà cioè io almeno la interpreto andrà tutto bene perché io farò di tutto perché impegnerò perché andrà tutto bene è chiaro bravo ma tu lo sai è chiaro che c'è chi può anche non vederla così sì ma se tu hai idea di quante persone a livello di dipendenza mentale morale hanno invece di essere indipendenti a livello personale sono pochissime le persone indipendenti a livello personale cioè che reagiscono positivamente la massa e lo vedi per come la gente si sta muovendo la massa aspetta che qualcosa succeda di buono è entrato è un'illusione la massa aspetta la massa aspetta e mi hai fatto venire in mente sia con questa frase la massa aspetta quindi invece pochi non aspettano e anche con il fatto che la gente non riesce a guardare al futuro invece un precursore del futuro in svariati aspetti è Elon Musk il quale ha tirato fuori ha sdoganato un curriculum tutto particolare da nuovo molto smart di cui abbiamo parlato durante una nostra diretta qualche mese fa che è un curriculum short dove sul lato destro ci sono le soft skill cosa che molti non sanno nemmeno cosa sono allora mi sono domandato ma prima ancora di scrivere un curriculum nuovo futuristico ma non bisognerebbe rivedere un po' il sistema di colloqui in fase d'assunzione cioè le domande che vuoi fare ai collaboratori che poi sono le persone con cui tu dovrai lavorare dovrebbero cominciare ad essere un po' diverse se sì secondo te dove bisognerebbe focalizzarsi durante un durante un colloquio perché insomma le competenze stanno scritte sono quelle poi le devi anche un po' dimostrare ma insomma se fai il barman il caffè il cocktail lo saprei fare ci auguriamo ma tutto il contorno che dovremmo scoprire durante quel colloquio cosa sono queste cose importanti allora è giustissima questa cosa e purtroppo anche qua la maggior parte assume o tira a bordo nuovi collaboratori attraverso le competenze cioè la lista di competenze che sono magari quelle che stai cercando e non ti preoccupi dell'attitudine di quella persona cioè dei comportamenti di quella persona o non ti curi appunto della flessibilità mentale di quella persona e quindi le cose le domande adesso non sto a dirti quali domande fare il risultato che devi ottenere da una chiacchierata con un potenziale nuovo collaboratore dovrebbe essere basata sul capire se è flessibile mentalmente oppure se ha delle idee molto rigide rispetto ad alcune cose se ha la propensione a lavorare in squadra di gruppo o se è un individualista perché se tu hai un gruppo lo vuoi mettere all'interno di un gruppo e questo invece ha sempre lavorato da solo lavora meglio da solo è sempre stato davanti a un computer senza avere relazioni e lo metti in un gruppo quanto dura ok penso poco modalità di comunicazione il come ti risponde il come si muove fisicamente quindi sei una persona che entra in stress facilmente quindi basta fare qualche domanda che tra virgolette può mettere in imbarazzo e puoi vedere subito la reazione di quella persona ok quindi come agisce dal punto di vista emotivo e come gestisce le relazioni in generale quindi anche anche l'empatia che un collaboratore è in grado di creare con te che sei il potenziale che ti assume oppure il responsabile del personale cioè come si pone capisci delle cose capisci sei una persona impostata tutta sai che vuole fare che vuole fare bella impressione oppure sei onesta cioè ascolta io sono così se ti piaccio mi assumi se non ti piaccio vado da un'altra parte che poi la nostra lingua italiana è molto bella perché di solito queste persone sono irresponsabili alle risorse umane che spesso viene inteso soltanto come colui che trovano i pezzi da mettere all'interno di questo puzzle invece risorse umane dovrebbe essere la persona che individua proprio le risorse che ha quella persona lì oltre le competenze ma c'è qualcosa nella tua esperienza che tu hai visto che gli imprenditori italiani invece sanno fare proprio bene cioè sta cosa noi in Italia imprenditori italiani la fanno bene questi siamo bravi mamma mia la faccia già la domanda è impossibile hai una domanda tra bocchetto speravo tirare un po' di buono allora gli italiani in generale sono bravi nelle relazioni cioè generalizzando gli italiani sono bravi a creare rapporto con le persone cioè siamo convivializzare molto ecco bravo siamo conviviali tiriamo dentro ok quindi a volte a volte una delle cose che probabilmente dovremmo imparare da altri paesi è un po' più di disciplina un po' più di disciplina è perché il nostro troppo il nostro troppo diciamo essere simpatici rischia a volte di gestire di farci gestire le cose con un po' di superficialità di sufficienza ok e pensiamo che facendo poco si possa ottenere tanto ecco io sono d'accordo con te devo dire ma in realtà anche prima ero d'accordo con te solo che aggiungerò una cosa per chiarire quella cosa di prima approfitto anche per apro una parentesi venerdì ci sarà la live con Robert Dennis che è un prof di business english lui ha vissuto ovviamente nato e cresciuto a Londra penso che sia l'ideale per poter chiedergli cosa ne pensi degli italiani con gli stranieri insomma con gli altri sicuramente confermerà che noi italiani siamo simpaticissimi però dal punto di vista ecco magari a casa siamo alla mano va bene però per quello che è il mondo del lavoro siamo in un disastro proprio perché quando non riusciamo a rispettare i termini siamo caotici approssimativi non rispettiamo purtroppo non rispettiamo spesso gli altri anche queste cose non vanno bene sono generalizzazioni queste è ovvio che non vale per tutti perché comunque abbiamo degli imprenditori molto importanti in Italia però potremmo essere molti di più in Italia sono le piccole imprese piccole e medie imprese cioè siamo pieni di partite IVE perché queste partite IVE non si trasformano in SRL SPA perché chi le gestisce si inventa un po' cioè ci prova non c'è la disponibilità lo vedo anche nel mio lavoro non c'è la disponibilità di mettersi in gioco ok ce n'è poca ce n'è poca cioè di mettersi lì e studiare fare i corsi di formazione imparare ad essere un imprenditore non è cioè un imprenditore non si diventa caso soprattutto di successo ovvero imprenditore visto che siamo nella pagina giusta non è una cosa che nasci cioè devi essere preparato probabilmente devi anche essere disposto a fallire se non sei disposto a fallire quindi a sbagliare non 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 corri quel rischio ecco un po' la zona di comfort no vogliamo stare nella nostra sicurezza vogliamo essere sicuri quando sempre tutto bene e che comunque non non si corrono grossi rischi non puoi fare l'imprenditore senza correre dei rischi è impossibile è impossibile quindi insomma dice la regola meno fai meno sbagli quindi più fai più sbagli più impari più più cresci e più metti in campo esperienza e diventi una persona migliore anche grazie alle errori che hai fatto certo credo credo che in Italia è proprio la parola fallimento che venga associata purtroppo alla persona non alle azioni quello è il grosso problema che noi abbiamo l'identità naturale su quel concetto lì c'è Diego che scrive qualcosa cerchiamo magari di ecco di vedere un attimino anche la a parte un sacco di saluti un sacco di bentornati bentrovati ciao Daniela eccetera eccetera grande Daniela grazie allora c'è Diego che scrive si riallaccia un po' a quello che dicevamo prima andrà sicuramente bene a chi venda mucchina, mascherina e tampone costruisce baghi per la scuola poi c'è una parte importante bella forse lo stavamo trattando proprio adesso proprio quelli che saranno disposti a cambiare le proprie prospettive e di come e quanto cresce nella propria attività e nel perseguire i propri sogni e le proprie passioni forse questo è il momento storico umano in cui la propensione al cambiamento 360 gradi è davvero importante siamo costretti allora siamo costretti quindi chi è che ha la mentalità ed è non dico abituato al cambiamento ma affronta il cambiamento e corre il rischio del nuovo di fare qualcosa di nuovo di diverso avrà sicuramente cioè da qui ne uscirà veramente vincente chi ha sempre avuto paura del cambiamento e in questo momento si trova costretto a dover cambiare probabilmente avrà delle grandi difficoltà perché non ha la mentalità e l'atteggiamento sviluppato al cambiamento quindi si ritroverà a doverlo subire e sicuramente ci saranno molte attività molte aziende che chiuderanno e probabilmente è brutto da dire però probabilmente sarà un bene perché probabilmente quelle non sono persone o non sono o le loro aziende le loro attività non sono non erano pronte non sono state create all'altezza del mercato del business no cioè quelli quelli che lavorano male parliamoci ce ne sono tantissimi di professionisti che si ritengono professionisti ma lavorano malissimo ok nel mio settore nel mio settore cioè oggi scrivi coach fai una bella pagina facebook e sei il coach hai letto quattro libri ma da che mondo è mondo e magari nella tua vita non sei neanche in grado di realizzare quattro cose che riguardano te stesso magari hai un matrimonio che va a faceli o guadagni i quattro soldi messi in croce e ti reputi uno che può fare la differenza sugli altri cioè eppure se vuoi oggi con i social con il web è un attimo far vedere che e poi però di sostanza ce n'è poco e niente ecco io credo che sia giusto che alcune persone alcune aziende che non sono non fanno la differenza sul mercato anzi rovinano il mercato dei veri professionisti sia giusto che chiudano e che magari vadano a fare altro e si trovano dell'altro da fare e ripeto sono d'accordo con la selezione naturale è spietatissimo ma per forza e qui questa condizione mette tutti fa riflettere tutti a dover veramente alzare l'asticella c'è una marcia in più qua veramente tutti quanti devono mettere un'energia diversa bisogna lavorare molto di più bisogna essere molto più concentrati bisogna lavorare molto di più sulla creatività bisogna inventarsi magari delle cose nuove e qui siamo tutti messi alla prova chi farà questo e quindi lavorerà velocemente con la propria mente e deciderà di imparare di studiare di 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 vincerà di disadattare attenzione perché come nella natura no esatto quindi sì così abbiamo abbiamo parlato fino adesso di un leader che gestisce una squadra però abbiamo promesso anche di andare a toccare quella leadership che riguarda il singolo cioè faccio un esempio domani decido di aprire la mia attività perché mi sento portato nella vendita di qualcosa o di un servizio ma non ho mai fatto l'imprenditore tuttavia ho appena visto questa live e capisco che devo imparare qualcosa che mi servono delle competenze che vanno al di là di quelle del semplice venditore per poter esercitare questa leadership e gestire me stesso in una strada nuova e impervia quali sono quelle cose che dovrei attenzionare davvero tanto dovrei studiare dovrei far mie allora sicuramente uno è la gestione delle proprie emozioni uno deve essere consapevole quindi deve conoscere se stesso deve conoscere le sue reazioni se di fronte ad una determinata situazione reagisco in modo improduttivo io devo essere in grado di interrompere quello schema comportamentale e di assumere a mia volta un atteggiamento e mettere in campo uno stato d'animo che sia produttivo in quello che io voglio fare cioè facendo degli esempi pratici se io sono un imprenditore o voglio fare un imprenditore e poi devo comunque iniziare a mettere in campo delle cose e faccio i primi clienti se che ne so mi sento insicuro perché sono le prime armi di fronte ad un cliente che magari so che è un cliente di un certo spessore personale o di un certo target e mi cago sotto scusatemi il termine quindi sono insicuro di me non esiste il mondo cioè io devo essere in grado di essere pronto a quell'appuntamento oppure devo fare una presentazione davanti a un pubblico devo essere pronto ad essere a livello di stati d'animo di emozioni giuste per essere lì siccome sono so che cosa devo dire sono preparato dal punto di vista dell'argomento non posso mandare tutto a rotoli perché emotivamente non sono in grado di affrontare un pubblico esempio delle emozioni esatto poi comunicazione cioè comunicazione persuasiva se sono uno che vende fa negoziazione che ne so chiama raccoglie fondi per la propria azienda qualunque cosa sia la comunicazione persuasiva cioè essere in grado di far domande essere in grado di guidare una persona a prendere decisioni oppure anche comunicazione efficace quindi essere in grado di empatizzare con gli altri a seconda delle modalità che gli altri hanno perché non si entra in rapporto sempre con tutti ma si empatizza o si entra in rapporto solo con i nostri simili semplicemente perché siamo differenti uno dall'altro quindi se io voglio entrare in rapporto con te devo cattare e capire quali sono un po' le tue modalità come si dice tecnicamente in programmazione neurolinguistica per chi non la conosce si documenti perché non si può non conoscere si deve modellare quindi si deve entrare in empatia utilizzando diciamo le modalità del mio interlocutore perché se io uso le mie e tu usi le tue probabilmente è facile che in alcuni punti non ci incontriamo perché non ci capiamo e quindi se io voglio fare l'imprenditore voglio avere successo devo saper comunicare devo saper gestire le mie emozioni e poi devo essere comunque coerente cioè devo riconoscere devo sapere che esistono le credenze cosa sono le credenze sono quelle certezze quella sensazione di certezza quella sicurezza che io ho nei confronti di qualcosa di me stesso di qualcosa di qualcuno quindi se io sono sicuro o comunque sono certo di essere una brava venditrice io dimostrerò a me stesso di esserla di essere una brava venditrice con i fatti e confermerò di essere una brava venditrice se io penso e ho la sensazione di non essere all'altezza di affrontare una determinata questione esattamente confermerò a me stessa perché i risultati nell'affrontare quella situazione mi daranno effettivamente mi confermeranno che io effettivamente non ero all'altezza e vi dirò ecco vedi lo sapevo che non ero all'altezza ora per fortuna noi possiamo diventare consapevoli di tutte le nostre credenze limitanti depotenzianti cioè sono quelle credenze che non ci permettono di avere risultati e le possiamo cambiare ora in un mondo d'oggi nel 2020 secondo voi vi pare possibile che le persone in generale non sappiano queste cose molti secondo me non vogliono sapere è troppo faticoso oppure presunzione io so fare io ho capito io vado bene così io sono fatto così io faccio così si è sempre fatto così c'è chi non ha voglia perché è più importante avere una scusa per cui ti ti addolcisci la pillola e ti anestetizzi il fatto che non sei una persona che ha risultati nella sua vita e quindi non sapere essere ignorante e non voler vedere ti permette di avere una scusa quelli che invece credono di essere troppo o credono di essere già arrivati sono coloro che ne avrebbero più bisogno perché purtroppo il pensare di essere già arrivati è il più basso degli standard che puoi avere perché non è possibile non è possibile essere arrivati a niente non si arriva mai a niente cioè sei sempre una persona che può migliorare se stessa sei sempre una persona che puoi avere e ottenere di più dalla vita per cui non sei mai arrivato chi crede di essere arrivato è la persona di livello più basso che possa esistere sulla terra mi dispiace se c'è qualcuno che mi sta ascoltando che crede di essere chissà chi ma io sono una molto diretta e quello che pensa lo dice e io con te starei a parlare ancora tutto il pomeriggio ma sono impegnata e si è fatta no dobbiamo rispettare la promessa allora l'appuntamento sappiamo di ora sempre torna a 45 minuti quindi voglio chiudere facendo la mia domanda conclusiva di Rito come tu ben sai ormai si diventa adulti quando si finiscono più o meno gli studi e si entra all'interno del mondo del lavoro ormai sei una donna in carriera sei una donna di successo una donna che ha grandissimi grandissimi obiettivi hai capito tanto appunto da aiutare gli altri a capire come fare meglio ma se la Daniela di oggi incontrasse la Daniela di 30 anni fa quale suggerimento daresti io purtroppo non riesco a sentire più nulla cioè voi vi sentite sì io riesco non ho capito gli ultimi 5 minuti non ho sentito nulla però va bene se voi vi sentite c'è la neplica va bene comunque sono riuscito a capire qualcosina comunque dai la domanda non l'ho capita poi me la riascolto allora gli direi c'è un audio un po' altelenante ecco le direi le direi di fidarsi di se stessa e di fidarsi delle sue intuizioni che sono che se ti fai guidare dal cuore vai sempre nella direzione giusta perfetto grazie mille Daniele grazie a voi grazie a tutti non so perché però ho capito un po' il concetto credo di hai detto aspetta hai detto fidati di te stessa no? sì ok adesso si sente un po' meglio Leo te la riguardi te la riguardi così senti mi riguardo gli ultimi 5 minuti perché non ho detto nulla perché vi vedevo parlare ma vedo che ho una tacca su 5 una tacca un po' pochina tra l'altro Daniele giusto per per chiarire quel discorso del andrà tutto bene ho ripensato un po' a quella frase e io penso che quella frase magari farò delle ricerche così per così credo che sia una frase che sia stata fatta girare quando ci sono state le scene di panico ricordi quando c'era stata la corsa ai supermercati la gente era confusa gente che tendeva a pensare chissà che credo che sia stata fatto sia stato lanciato quell'hashtag proprio per quello scopo guarda Leo è chiaro che se noi lo vediamo proprio in senso ampio come hai detto benissimo potrebbe essere lanciare un messaggio sbagliato no 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 ma aspetta Leo Leo scusami quello non mi interessa il perché è stato lanciato quel messaggio e che scopo aveva per me è una mia opinione personale non è non è un hashtag di cui fidarsi perché io posso fidarmi dell'andrà tutto bene che decido io non l'andrà tutto bene che in generale qualcun altro mi può dire perché se io aspetto andrà tutto bene grazie a delle cose esterne non andrà tutto bene perché tutto dipende da me sì ma io sono d'accordissimo non ci mancherebbe altro sono proprio d'accordissimo però purtroppo in quella situazione quando si parla alle masse purtroppo come anche giustamente detto le masse non sono tutte capaci di comprendere dei messaggi più elaborati a volte un messaggio così semplice è quello che magari funziona meglio ovviamente nel breve termine è chiaro che in una un'ottica di crescita quindi a medio lungo termine non basta è una sciocchezza può essere interpretato come una sciocchezza e in effetti se lo andiamo a vedere in quel senso lì è una sciocchezza quindi in realtà sono d'accordo con te era più che altro che andava contestualizzato per chi ci ascolta perché io ricordo che quel messaggio quel hashtag che è stato lanciato proprio quando ci sono state le scene di panico più che altro per quello va bene va bene è uno molto molto preciso lo ho notato lo ho notato lo ho notato va benissimo non c'è problema grazie ragazzi grazie Daniela Daniela grazie mille veramente per il tuo grazie Leo ciao buona giornata come possiamo seguirti oltre che sulla tua pagina ho una pagina pubblica la go to action Giuseppe la go to action finale ci sta la go to action bravo allora la mia pagina pubblica è dove tra l'altro tutte le settimane faccio una mezz'oretta di diretta ne ho una domani sera alle 18 se qualcuno ci vuole interessato sempre sulla sulla questione del team e poi ho la pagina instagram anche lì metto contenuti che è danni y bonetti y finale quindi se chi vuole seguirmi a piacere bene fatelo perché io lo farò io lo farò sicuramente molto 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 interessante grazie mille ragazzi è stato un piacere grazie Dani ciao Daniela grazie ancora ciao 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 a tutti ci vediamo mercoledì prossimo venerdì anche venerdì non dimenticate di venerdì ci vediamo venerdì sera alle 19 per la prima lezione di inglese con Robert Dennis e poi mercoledì prossimo e poi mercoledì in realtà mercoledì prossimo tu non ci stai io non ci sarò ma proverò a fare una brevissima incursione ok allora ci inventeremo qualcosa nel frattempo o un evento molto importante stiamo piattendo anche gli altri ospiti no quindi pian piano li comunicheremo a brevissima che abbiamo degli ospiti che sono continuiamo a crescere di livello quindi non perdetevi nessuna live perché c'è c'è tanta carne sul fuoco certo ringraziamo ovviamente chi ci ha ascoltato in molti hanno scritto vediamo se c'è un altro messaggio qualcuno allora Massimo Pisani Stefania Diego Federica è un bel po' dai è un bel po' un bel po' di genere Stefano oh guarda quanti c'è anche Leo Cascio lo conosci? e anche Giuseppe ovviamente che dice sono un po' marzulliano va bene grazie a tutti ciao Giuseppe ciao ragazzi ciao 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 Grazie.